La proposta con tanto di palloncini davanti ai palazzi del potere ha il tentativo sin qui infruttuoso di applicare una misura analoga anche in Regione. Dopo il ricalcolo retroattivo dei vitalizi in Senato voluto dal Movimento 5 Stelle e ancora in attesa di esito ai molti ricorsi presso la Corte Costituzionale, una proposta analoga è stata presentata pure in viale Aldo Moro per gli assegni degli ex consiglieri su base contributiva, bocciata in modo compatto dalla maggioranza che rivendica per la Regione Emilia-Romagna l'indipendenza politica nel merito e la maggiore autonomia da tempo richiesta. Da Roma piove anche una minaccia, taglio secco del trasferimento di fondi per chi non si adegua al ricalcolo, non meno secca la replica. I vitalizi sono già stati aboliti perché ha prestato servizio in Regione nelle ultime due legislature dal 2010 in avanti e l'Emilia-Romagna è stata la prima a farlo. Inoltre i vitalizi maturati prima del 2010 sono già stati abbassati attraverso l'introduzione di un contributo di solidarietà. I pentastellati però non mollano e per voce del capogruppo Silvia Piccinini contestano le cifre. Appena 3,3 milioni di euro vengono recuperati attraverso il contributo, mentre il costo totale dei vitalizi è di 27 milioni e rilanciano annunciando una nuova proposta di legge. Senza mediazioni questa volta prosegue Piccinini per il ricalcolo contributivo. Per i soli numeri i vitalizi già maturati in Regione Emilia-Romagna sono 145 e hanno un importo medio di 32.400 euro. I tagli già attuati li toccano per un 12%, ma nelle intenzioni del governo ci sarebbe un ritocco del 40% in media, come avvenuto per gli ex senatori. La tesi difensiva è sempre la stessa, andare oltre a quanto già tagliato potrebbe rivelarsi un disastro in sede giudiziaria, con più di 300 ricorsi già pendenti per i tagli decisi a Roma e il rischio che molti altri seguono, essendo 2.500 in totale gli ex consiglieri regionali a livello nazionale. E a dirlo non è una figura del PD ma della Lega, Roberto Ciambetti, vice coordinatore regionale del Veneto, ma il gruppo regionale del PD in Emilia-Romagna rincara, spiegando che nella nostra regione i consiglieri versavano più rispetto ai senatori per ottenere i vitalizi, circa 2.000 euro al mese, e con il ricalcolo contributivo si andrebbe in pari, con il rischio addirittura di spendere di più, senza contare un altro pericolo, quello di creare i presupposti giuridici pure contro l'abolizione dei vitalizi correnti. In altre parole, istituire il metodo contributivo potrebbe offrire un appiglio per tornare a chiedere il vitalizio, anche ai consiglieri oggi in carica.